Eccoci qua, allora oggi parliamo di tre token, tre token che dovete assolutamente tenere in considerazione per il 2024 e sono tre token che assolutamente non ti aspetti, o almeno uno di questi tre non te lo aspetti di sicuro, perché non ne parla mai nessuno, quindi seguite questo video fino alla fine e ditemi, ragazzi, come sto con gli occhiali? Cioè vi piacciono? Sono diventato finalmente intellettuale? Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, so che vennerà meno di niente, io li odio più che altro di profilo, però li devo tenere perché stavo distruggendo i miei occhi con le lenti a contatto dopo tanti anni, quindi ragazzi fatevi gli occhiali se dovete, un bel like, iscrivetevi al canale, quindi partiamo subito, prima di tutto ragazzi tenetevi liberi il 22 di dicembre, il 22 di dicembre noi presenteremo in modo completamente gratuito il wallet, del futuro, apriremo infatti nella Desert Academy un nuovo wallet che sarà considerato appunto il wallet del futuro, perché è un wallet tematico, a differenza degli altri due che sono già cominciati e sono anche chiusi, ok, al pubblico, sono cominciati diversi mesi fa, questo parte il 22 di dicembre, sarà l'ultimo wallet che partirà nella Desert Academy e sarà tematico per questo ciclo, sarà assurdo ragazzi, sarà una bomba, seguite il webinar gratuito in cui lo presentiamo, vi diremo su cosa andremo ad investire, su cosa andremo a concentrarci, il perché, il per come, quindi sarà tutto spiegato in modo completamente gratuito per rimanere connessi, visto che non sappiamo dove lo faremo, o meglio ve lo diremo soltanto poche ore prima della live, che vedete sarà alle 21 e 15, il 22 dicembre ragazzi, quindi venerdì, Natale arriva in anticipo, per rimanere quindi connessi, iscrivetevi al canale Telegram qua sotto, che trovate il link qua sotto, e rimanete connessi, e poi tenetevi liberi venerdì alle 21 e 15 per questo evento, ragazzi, epocale, questo sarà un wallet che cambierà decine di vite, ok, lo dico senza troppi, diciamo, indugi. Ora, siamo pronti, partiamo con le tre, tre coin, tre token, che dovete assolutamente avere in considerazione, non dico in portafoglio perché non posso darvi consigli finanziari, ma sono un wallet da tenere sicuramente in considerazione. Allora ragazzi, la prima di queste è ovviamente fetch AI. Allora, voi lo sapete, io quanto sono bullish nel mondo dell'intelligenza artificiale, perché io penso che l'intelligenza artificiale non solo sarà molto promettente a livello speculativo, noi in Academy vogliamo fare quanti più profitti possibili della filosofia ci interessa relativamente, è bello interessarsi alla filosofia quando si hanno le tasche piene, ragazzi, quando si hanno pochi soldi, la voglia di interessarsi alla battaglia liberale di bitcoin, è bellissimo, sostengo tutto, ma se poi alla fine non riuscite a pagare il pranzo o la cena fuori al ristorante perché non ve lo potete permettere, dovete vivere distenti, ecco, forse è meglio pensare un attimino prima ad arricchizzi, e poi, no, alla filosofia, che va benissimo, ripeto, sono un ribellenato, sono un sostenitore di bitcoin, ma vi ripeto, io sono qui per fare gain, ok? L'intelligenza artificiale rappresenta uno di questi metodi per fare gain, soprattutto in questo ciclo, perché è un trend, è un trend molto forte e secondo me sarà il trend, ragazzi, principale. E quindi, oltre al fatto che sarà un trend, l'intelligenza artificiale andrà a stravolgere il mondo, un po' come internet, per chi lavora come me nel digitale, lo sa, lo sta vedendo ad una velocità pazzesca, simile anche alla velocità, magari, che abbiamo nel mondo delle cripto, ok? Dove tutto cambia velocissimo, ecco, l'intelligenza artificiale sta avendo questo tipo di risvolto, non solo, appunto, dal punto di vista di token che esplodono nel mondo cripto, ma proprio a livello di rivoluzione, posti di lavoro cancellati, nuovi posti di lavoro creati, opportunità di business incredibili, basati sull'intelligenza artificiale. Chi segue Michele Maraglieno sicuramente alcuni li conosce, li applica anche, ok? Quindi, ragazzi, dà veramente un'infinità di possibilità e siamo solo all'inizio. E come possiamo sfruttarlo nel mondo delle cripto? Seguendo, appunto, quelli che sono i trend. Fetch.ai, ci sono due, tre cose che voglio dirvi velocissimo su questo token e perché penso che sia importante tenerlo in considerazione. Io, ragazzi, ho comunicato un mio ingresso su Fetch.ai più o meno in questa zona, eravamo intorno a settembre, quindi a 25 centesimi circa di prezzo, ora siamo intorno ai 0,72 centesimi. Chi mi segue in Academy, chi è connesso in Academy, sa tutti quelli che sono le mie movimentazioni, perché condivido in tempo reale quello che faccio nel gruppo. Quindi, ragazzi, trovate il link sotto in descrizione, se non volete perdervi questa occasione, venite in Academy, eccetera, eccetera. Tutti quelli che sono dentro ora festeggiano, sono contenti, quindi devo dire che stiamo facendo un ottimo, ottimo lavoro. E guardate, ora dove siamo? Siamo in una zona di quasi price discovery, in realtà se mettiamo all, vediamo che non siamo ancora in all time I, perché è un token che ha un suo storico, ma la cosa interessante di questo token è che è nato un po' come appunto intelligenza artificiale, cioè non è un token che ha fatto un rebranding in AI, o perlomeno, è un token che ha cominciato a sviluppare seriamente, a essere realmente appetibile, proprio nel momento in cui si è specializzato nell'intelligenza artificiale. Ora vi faccio vedere anche il sito, l'ho messo qua. Potete trovare comunque tutto il loro white paper, come funziona, con chi stanno già collaborando. Ovviamente ragazzi parliamo di qualcosa che è, come al solito, un'idea. In questo momento siamo a 600 milioni di market cap, quindi neanche un miliardo. E per chi arriva dal precedente ciclo sa che cosa vuol dire, ragazzi, arrivare più o meno in top 10, top 15, top 20, ok? E tendenzialmente si parla di qualche miliardo, addirittura decine di miliardi di dollari, dipende un po' dove si arriva. Quindi potenziale di crescita veramente molto molto alto, soprattutto considerando che è in trend. E anche per quello che stanno sviluppando, hanno delle idee molto interessanti. Avevo trovato una cosa figa che volevo far rivedere e non la trovo più, però quindi non perdiamo tempo perché sono in diretta praticamente. Quindi andiamo avanti, insomma studiatevelo, datevi un occhio, ok ragazzi? Il terzo token che vi dirò, vi ripeto, non ve lo aspettate, quindi rimanete connessi. E poi ovviamente come non parlare, ragazzi, di Injective. Ormai è sulla bocca di tutti, però quando l'abbiamo parlato noi, giusto perché voglio shillare, perché meno merito ragazzi, cioè ce lo meritiamo, ce lo meritiamo. Quindi facciamolo, perché mi devo vergognare di essere uno shiller. Guardate qua, Injective in Academy l'abbiamo acquistato il 10 settembre ad un prezzo di 6 dollari e 65. Quando tutti ci spiegavano che non bisognava comprare le altcoin prima dell'albic, ragazzi. Ragazzi, io quante volte vi ho detto, cioè veramente chi mi segue dall'inizio sa, ok? Anche qua sul canale non c'è bisogno di essere per forza in Academy, perché l'ho detto chiaramente anche qua, ho criticato tanti colleghi, ho fatto anche dei nomi alle volte, ho cercato anche lo scontro, perché a me piace lo scontro, mi piace non tanto lo scontro, il confronto. Ecco la parola giusta, mi hanno proposto dei confronti, poi si sono tirati indietro la maggior parte delle volte, quindi sono loro che fanno tutto da soli. E ragazzi, io vi ho sempre spiegato che non è vero, non dovete dare retta alle leggi, queste sono leggende, leggende. Chi studia veramente il mercato sa come posizionarsi e c'è un motivo se noi ci siamo posizionati a 6 dollari e 60 centesimi. E ora Injective sta in all time I, in price discovery, a oltre 42 dollari. Qui parliamo di un token che non è specializzato solamente in intelligenza artificiale, connette vari mondi come per esempio anche la DeFi, ha una market cap di 3 miliardi e mezzo di dollari, quindi direi sicuramente inizia a essere interessante, a essere importante la market cap, non è uno di quei token da cui mi aspetto un 100x ragazzi, quindi se volevate il 100x sicuramente no, ma è uno di quei token che possiamo tenere in considerazione almeno per quanto riguarda il prossimo ciclo, ok? Perché oltre alle performance che ha già fatto, ha dei target molto molto interessanti. Sicuramente, ripeto, non è il token speculativo su cui andare a fare moltiplicatori enormi, soprattutto ormai con una market cap così, quello che doveva accadere è accaduto più o meno intorno ai 6 dollari e 60, se l'avete preso più o meno in questa zona ragazzi, allora state godendo, state godendo sicuramente, però va comunque tenuto in considerazione, perché il fatto che abbia una market cap alta non significa che non possa performare, ok? Dipende semplicemente qual è la vostra prospettiva. E ora ragazzi, per chiudere, vi faccio il regalo dell'anno, perché questo token, questo progetto, io ne parlo dal precedente ciclo. Stiamo parlando di Helium, uno dei progetti più sottovalutati in assoluto in Italia. Non viene mai considerato da nessuno, non conosco neanche uno youtuber italiano, e ditemi qua sotto nei commenti se conoscete qualcuno che ne parla, io non conosco neanche uno youtuber italiano che ne ha parlato, ok? Helium, ragazzi, ha un progetto molto interessante, una market cap di un miliardo e mezzo, è arrivata nello scorso ciclo a un all time high di circa 50 dollari, ora si trova a circa 9 dollari, era arrivato anche intorno al dollaro, al 2 dollari, verso area di bottom più o meno, e questo progetto, ragazzi, ha una idea rivoluzionaria che è di minare attraverso i wifi, e attraverso lo sharing del wifi di internet, fondamentalmente, ok? È molto molto interessante come progetto, basato su blockchain decentralizzato, è uno dei progetti che seguo da tantissimo tempo, è uno dei progetti di cui non parla mai nessuno, e quindi, ragazzi, in questo momento se dovesse tornare ai suoi all time high, sarebbe comunque già un per 5, anche di più, rispetto al prezzo attuale, ha soltanto una cosa che non mi è piaciuta, e ve lo devo dire per trasparenza, il fatto che è stata delistata da Binance, ma questo è successo durante il bear market, non ho capito il motivo, se lo sapete ditemelo nei commenti, ragazzi, ho cercato notizie ma non ho scoperto nulla, forse perché c'era poca liquidità in quel momento, essendo in pieno bear market, quindi è stata delistata da Binance, era listata su Binance ed è stata delistata, ora non so se verrà rilistata, non lo so, in qualche altro modo oppure no, questo non lo posso sapere, quindi sicuramente il fatto di non essere presente su Binance potrebbe togliere della liquidità fondamentalmente, ma se guardate, nell'ultimo mese ha fatto un per 3, quasi un per 4, un per 3 e mezzo, quindi è molto interessante vedere che comunque nonostante non sia su Binance, performe, quindi da tenere sotto controllo ragazzi, io ovviamente non vi sto dicendo di comprare tutta questa roba adesso, perché ovviamente ragazzi ora siamo in una situazione difficile, bisogna saper gestire questo mercato, e quindi ragionatevi, ragionate, usate la vostra testa, non sono così finanziari, se invece volete una mano, trovate la Kering, ragazzi, io ho più che tiro, non so più che fare, quindi fate come vi pare, vi ricordo il 22 dicembre, la live, link sotto in iscrizione per accedere al canale Telegram, mi raccomando, fatemi sapere se conoscevate questi token, se vi piacciono, se li avete già nel portafoglio, eccetera, 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 ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!